Una riduzione della domanda del 44% ed una contrazione della spesa del 10% che diventerebbe del 95% considerando l'importo della concessione per la realizzazione e gestione di un impianto eurico. Dopo mesi di attività in rapida accelerazione, le stazioni appaltanti della Sardegna hanno fatto registrare una frenata nel bimestre estivo con un numero di appalti e livelli di spesa rispetto al corrispondente bimestre del 2022. Il report della CNA Sarda tra luglio e agosto ha registrato la promozione di 54 bandi di gara per lavori pubblici per una cifra a base d'asta pari a 246 milioni a fronte delle 97 gare promosse nel periodo estivo dello scorso anno quando l'importo di gara era pari a 273 milioni. Valori che corrispondono ad una frenata per un verso fisiologica dopo un'annata eccezionale e una prima metà dell'anno in cui è proseguita l'accelerazione dell'attività delle stazioni appaltanti per non perdere i flussi economici messi a disposizione dal PNRR e dal fondo a complementare. Però dobbiamo dire che i primi otto mesi del 2023 sono stati davvero eccezionali perché tocchiamo un livello storico di 1,9 miliardi, cioè praticamente negli otto mesi del 2023 superiamo l'annualità, i 12 mesi del 2022 che erano stati con circa 1,76 miliardi era stata un'annata eccezionale. Ma anche e soprattutto sapevamo dal primo di luglio del 2023 è entrato a regime in vigore il nuovo codice degli appalti e questo ha creato inevitabilmente dei problemi con le stazioni appaltanti che sono dovute adeguare alle nuove regole soprattutto da un punto di vista della qualificazione. E in parte scontiamo anche gli elementi di criticità che sono quelli noti che riguardano una parte di bandi che sono stati aggiudicati precedentemente con dei prezzi non più congrui e poi anche la difficoltà delle imprese di trovare mano d'opera e di acquisire anche i materiali.